cento... 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 Buene a tutti ragazzi epei torno di.. buene a questo nuovo video buene a tutti ragazzi e soybeans, e庭 torno di questi nuovi video Grazie per i 100 iscritti e un traguardo storico davvero importantissimo 100 persone in questo mondo mi seguono Ciancio alle bande e banda alle ciancio Che cosa sto disendo? Non lo so nemmeno io Vabbè insomma per questi 100 iscritti speciali Ci sarà un'intervista un po' stupida fatta da miei amici Quindi se fa schifo è colpa loro Quindi ragazzi iniziamo questo video Scusate per questo figuraccio che farò adesso La colpa non è mia Ricordatevi il video Siamo qui con il nostro amato Pablo Giallorosso Amato Amatissimo Prepariamoci con le domande Quanti anni hai? 11 Sei fidanzato? La tua ragazza ideale? Sta là dietro Mostraci gli addominali Aspetta Vabbè ci sono visti Ok possiamo accontentarci Mostraci il bicipite Fai una faccia arrabbiata Fai una faccia spaventata Fai una faccia felice Fai una faccia in estasi Quanto porti di piede? 47 e mezzo Ti vergogni per la maglietta che indossi? Faccio lì Il tuo sport preferito è squadra Danza Fai un salto No aspetta Fai un salto Fanne un altro Trefono Vai Fai una giravolta Appena fatta Falla un'altra volta Dall'altro lato però Non mi ricordo Vabbè Occhi in su Occhi in giù Ma che era canzone? Dai un bacio a chi vuoi tu La tua spogliarellista preferita Il tuo obiettivo nella vita Tagliamo Canta una canzone per scherzo Per scherzo Vabbè Scherzo questa canzone te la dico a te Anima mia Non è casa tua Fai uno scatto Da lì fino a laggiù? Fai uno scatto Ok aspetta Via Pronto reattivo Fanne un altro Fanne un altro Da adesso rispondi sì o no Ok? Sì Sei felice dei risultati Che hai realizzato Con questo canale? Il tuo futuro è con YouTube? No Da 1 a 10 Quanto ti reputo intelligente? Mille Ma sì o no? Vabbè Hai già risposto da solo Dai Qui dai ragazzi della pista è tutto Ringraziamo per la partecipazione E il patata Pablo Giallo Rosso Linea allo studio Grazie a tutti